Ciao a tutti i guardiani, qui è Gigi, ho appena scoperto il primo collezionabile che si trova nel trono mondo come i giocattoli, come quelli che c'erano sugli altri pianeti è difeso da questi qua adesso li eliminiamo ok, una volta eliminati tutti si apre la barriera e possiamo prenderlo falena è carina, è da guardare meglio dei pinguini, quello è sicuro allora, vi faccio vedere sulla mappa si trova qua, sotto, ci sono due piani qui, nel piano sotto vedete, siamo all'interno di una piccola grotta praticamente e lo raccogliamo ciao a tutti